Oggi domenica c'è la seconda gara del girone di andata nel campionato provinciale allievi girone Chieti tra Virtus Castelfrentano e Baltisangro, Baltisangro si vede là in fondo con la classica maglia bianco-azzurra, mentre noi giocheremo con la maglia con i colori tradizionali giallorossi e con la nuova divisa dello sponsor Laliru, i nostri ragazzi sono reduci da una sconfitta patita giovedì scorso nel posticipo di Ortona contro l'Ortona Calcio, che sia stata solo una parentesi in quanto ci sono tante recriminazioni per quella gara, per come si è arrivati a quella gara, abbiamo i due portieri Matteo, Dottavio e Gianni Perrucci con la nuova divisa da portiere, vi piace questa divisa? Sì, è bella e bella a posto posso fare le riprese? e se lo fai bene dopo? Sì, gioca bene allora quando entri tu in campo con i giocatori? Ah beh quando entra la squadra io entro pure io sì, ecco abbiamo qua Bartolo, Renzetto, Cristian, Dondino, Costantini, Antonio farà il suo esordio giocherà con la maglia numero 9, Dondino numero 5, Nicola Perrucci con la maglia numero 3 c'è anche Marcello con il numero 16, Guido con il numero 6, Teddy Mata con il numero 11, Andrea giocherà con la maglia numero 2 Caran con la maglia numero 5, ah no, 15 da questo lato c'è la compagine della Val di Sangro con la classica tenuta bianco-azzurra ci sono gli esercizi di riscaldamento, qua sicuramente il blocco dei titolari e qua della panchina a fra poco no, 15 grazie sì